Alessandro, abbiamo ottenuto quello che volevamo anche in tempi rapidissimi e con un successo straordinario. Chi poteva pensarlo? Soltanto De Laurentiis, Sarri e il Napoli potevano dire di sì subito a una cosa che non si era mai fatta in Italia e credo anche poco all'estero. Noi siamo felicissimi, i miei ragazzi hanno dato secondo me una gran prova di passione atletica, sono dilettanti di grandissima disponibilità e poi hanno incontrato i più forti d'Italia, tra i più forti del mondo. E il segnale è arrivato, il calcio non è per forza veicolo negativo ma è veicolo di civiltà, di amicizia, di affratellamento e di uguaglianza come abbiamo scritto sulla maglia che ti faccio rivedere. Ecco qui, è giusto anche ricordarlo, è giusto pure ricordare che Sarri aveva chiesto subito scusa, riconoscendo l'ordine di aver sbagliato pronunciando quella parola. Che cosa vi siete ditti adesso? Ci siamo detti che adesso vado nel suo ufficio perché lui ha detto non ho soltanto chiesto scusa, d'accordo con De Laurentiis ho voluto fare questa partita.